Tu non vieni? No, se io resto qua. Ma insomma, ma che vuole tuo padre da me? Ma non lo so, se le solite cose parlate, ma fai scusa, ma che te fa paura? Paura? Paura di che? Ma chi ha appresa la scatola di biscotti? Ce l'ho io, ce l'ho io. Ah, ecco di qua. Agusto? Che c'è? C'è Sergio. Ah, vattene un po' a casa, te l'hai riuscito a fare un discorso con questo? E tanto avevo finito. E sei degnato finalmente da venire qui. Guarda che t'ho fatto a sto negozio. E' bello, è finchialo da così a così. Te l'ho rifornito di tutta la roba. Ci ho speso di milioni, ma tutta roba devo guarirà. Che è, senti sto presciutto che te? Senti com'è dolce. Eh, ho mangiato. Senti che sto presciutto, te l'ho detto è dolce. E' un zucchero, Sergio, lo senti? E' sto lì, che è? Senti sto lì, queste sono greghe, sei. Greghe. E' no, ma dai, sono greghe. Sono buoni. Come sono, tira la verità. Sono greghe. Senti, Sergio. Io a te dobbiamo fare un bel discorso. Come devi dire? Se non so troppo indiscreto, ma di che cazzo vuoi da mia figlia? In che senso? In che senso? Io c'ho una figlia sola. E non mi va che va presa in giro. Ma io mica la prendo in giro. Anzi. Mi è morto, io riconto affatto e mi è successo ieri. Mi ha detto a papà, mi porti a comprare un par di scarpe a Via Veneto. Capirai a me se hai allargato il cuore io e mia figlia a Via Veneto. Poi chi me la guardava. Mentre se stava guardando la padrina delle scarpe, passano due giorni a notte e dicono una frase che a me non mi è piaciuta. Io mi ciro e dico la cornuto. Via qua la cornuto. E' venuto tutto spavardo il più grosso. Mi ha dato un cassotto in bocca. Me lo so guardato, ho sputato e ho detto manca il sangue, mi fa uscire la cornuto in guardia. Gli ho dato un destro in bocca, mi è cascato per terra come Gesù Cristo. Io ho rotto il setto nasale, gli ho frantumato le mucose e gli dicevo alzati, alzati la cornuto, alzati gli ha detto. Pieno di sangue per terra, il tolitri, non s'arzato. Me lo so guardato, me lo so girato, me lo so risistemato a giacca e ho detto papà che è successo a mia figlia? Niente, due di passaggio. No ma comprai scarpe gli ho detto. Senti, te la sposi o non te la sposi mia figlia? No ma io me la sposo, adesso ho giusto il tempo un po' di così un po' di ingranare con questo lavoro nuovo. Ah Sergio, sono a quattro anni che ingrani con questo lavoro, qui dentro ci ha ingranato tutto. Ah Sergio, pensa che mi fia. Mazzetto, il serio? Diamo alla canio. Baccarone, mi hai provocato e io li distrugga adesso. Io me le mangio. Certo che assorti di fronte all'altro e tutta un'altra camminata eh. E chi ammazza quello? Oh ma tutti con me stasera ce la vedo? E ti meravigli? Arrivi a cena con due ore di ritardo e ti meravigli? Non lo so, avessi preso sta casa appena trattoria. Ma te l'ho detto, ho avuto un problema di lavoro. Ho avuto un appuntamento di lavoro importante, ho fatto un grosso contratto oggi. Ma lei va da sette, potevi almeno degnare di fare una telefonata. Sì, ti un po'. Comunque, mo' a parte tutto. Ah, in quel negozio sulla via Plenestina, dove peraltro non ti sei neanche degnato di venire, ho visto una camera da letto proprio molto ma molto carina. Sì eh. Ah ma di un po' com'è qua camera da letto? È certo che vi è proprio un bernito d'amore vi è. Senti se, tu te devi immaginare una gran specchiera. Rosse, scusa, mi sono ricordato che devo fare una telefonata. È una cosa di lavoro, urgente, per domattina. Dai ci metti un minuto, scusa eh. Un minuto solo, eh. Scusa eh. A quest'ora. Ora americana. Per il pool, per la commissione del petrolio. Manuel, senti, non è che avrei lasciato da te la mia agendina? Sì, e infatti ce l'ho proprio qua, c'era il tuo numero e allora ho pensato di chiamarti. Senti, siccome io ci avrei scritto tutti i miei appuntamenti, non è che potrei passare più tardi da te per raggiungerti e riprenderla? L'agendina? Sì, solo che purtroppo io adesso mi trovo a casa di certa gente, dove c'è una cena in piedi. Magari se tu mi lasci un tuo reperimento potrei cercarti io, eh? Ok, vabbè, facciamo così. Ci vediamo, esattamente. Ok, ok. A dopo allora, eh. Ciao, ciao. Ah sì, ma come cazzo parli? Sta a piangirà, mi fia sto fio da una mignotta, se lo pio lo sfondo tutto. Mi vuole menare perché? Perché gli ho fatto io? Rossella? E se piange, piange. Marce, io so giovane, io voglio vivere voglia, hai capito? Capito? Ma che c'ho io da spartire con quella famiglia là, eh? No, dimmelo. Ma ancora là sotto sta? E darei per te, ricchi. Ogni lasciata è persa. Ciao, è Manuel qui? Come, scusi? I'm a friend of Manuel's, just come back from Munich. No, Manuel è fuori, je suis seul. Oh, dove vai? Manuel! Fermati! Dov'hai? Ma che si sta a fa' il bagno questa? Signorina! Oddio mio! Vabbè, allora io mi faccio trovare giù e gli inventerò una scusa. Se no, che me frega. Io l'aspetto giù e la porto a cena fuori. Tiè! Ma avevi sentito arrivare? Sì, ho sentito la scensura, allora ho pensato che eri te. Senti, mi sta avvenendo in mente una cosa. E se andassimo a cena fuori stasera? Perché? Non lo so, a me sta casa stasera opprime, soffoca. Ma no, hai già preparato tutto, è così carino. Sì, lo so. E poi ti ho portato uno spumante e le paste. Piuttosto mi devo lavare le mani. Dov'hai il bagno? Il bagno? Non c'è il bagno. No, non è che non c'è il bagno, è che c'è il lavandino rotto e si è allagato tutto quanto per terra, allora non... Posso andare in cucina? Ssss, cucina sì. Come sei? Ma cosa c'hai, Manuel? Ma niente, che c'è deve avere? E che c'è mette nel cemento, nei tappi? Ma non sei contento che sono venuta qui stasera? Ma contentissimo, amore, ma scherzi. Cammina, chi è con me? Ma signore, scusi, che abita qui un cornuto che si chiama Emanuele Fantoni? Sì, abita qui, ma non c'è. Ho dato le chiave ad un amico suo. È proprio quel cornuto che cerco. Ma io che c'azzecco, che c'entri io? Io non lo so, c'ho niente, sto casino. È amico tuo. A che piano sta, signore? Quarto piano, interno 14. Interno 14? Senti, papà, io non vengo, preferisco resta qua. No, bene, papà, tu devi venire. Ti faccio vedere chi è quell'essere. Quei boiù, rannamoti. Appena giorno, I'm locked in the bathroom. Io quasi quasi andrei. Almeno prima brindiamo. Sì, brindiamo e ce ne andiamo. Però dopo torniamo. Sì, a noi due allora. Per sempre, fuori. Ti ho detto cammina, cammina! Che siete qua e che siete qua! Ma fammi conti e tessa. A noi due, abbalurdo. Guarda che bella casa che si è fatto questo. Ma non vedi a gente che conosce. Bravo! Ambecila, fregnaciaro, vi è qua. Ma chi è Manuel? Chi sono? Manuel? E che te si è cambiato pure no? Ma farso! A te si è in testa zitta, ti gonfia tutta. Ha capito? Sergio, io l'ho dovuto dire. Ma ci sei mazzato. Sono tutto pieno e lividi. Avevo fatto pure le partecipazioni. Se sennò poi è qua, ha un famone. Te trito, te trito tutta, ha un fame. Ha un fame nato. Where is the bastard? What are you crazy? You fucking son of a bitch. Guardala a chi la do, guarda. Ma non vedi questo, sta messa a te zoccoli. Pure l'orge fa sto cornuto. Sei un infame, sei un uomo che non va di niente. La cornuta a chi la do, la mia figlia. Sei sempre in mezzo a te zoccoli. Cinta no, eh? Qua cinta no. La cinta no. Tiè! La ferma di te. Tiè! Che gambe? Tiè! Su le gambe no. Pure con le necre, vai, pure con le necre. Vai dicendo che face l'amore. Che buona figlia della stiglia, tiè! Ave Maria! Grazia plena, Ave Maria, Grazia plena, Dominus Tecrum, Ave Maria, Grazia plena, Ave Maria, Grazia plena, Ave Maria. Grazie a plena... Ciao!